Torna in presenza Pescara Cartoon Son de Bay che per cinque giorni trasformerà il capoluogo adriatico in capitale dell'animazione. A partire da mercoledì 1 giugno si alzerà il sipario sulla 26esima edizione del festival promossa dalla RAI organizzata da RAICOM dedicata all'animazione cinematografica televisiva e crossmediale diverse le tipologie di contenuti. La presentazione stamani in Regione a Pescara da parte della Presidente Marco Marsiglio, degli amministratori locali e degli organizzatori del festival. Un grande evento, lo aspettiamo a braccia aperte, abbiamo sofferto due anni la pandemia e il rinvio di questo evento sul quale abbiamo puntato molto per internazionalizzare la nostra Regione e farla conoscere al mondo. La RAI è uno dei principali attori protagonisti dell'industria culturale mondiale, non soltanto nazionale, oltre ad essere il primo attore ovviamente in Italia è un attore di livello mondiale. Cartoon Son de Bay è una mostra a mercato del cinema d'animazione per i bambini, crossmediale, di livello internazionale. Quindi saranno migliaia di ospiti che vengono a tutto il mondo, una visibilità importantissima ed eventi appunto anche di rilievo assolutamente mondiale del settore cinematografico. C'è poi un'anteprima che ne sta particolarmente a cuore sottolineare, anteprima mondiale. È una proiezione speciale, un evento appunto di livello mondiale, Jurassic World è uno dei film, delle serie che maggiormente attira il pubblico. Come tutto appunto questo settore del cinema che non è marginale, io penso anzi che il cinema d'animazione, il cinema per bambini, il cinema per le famiglie, il cinema di fantasia, il cinema è oggi di fatto l'ossatura portante dell'industria cinematografica. Senza questa tipologia di cinema probabilmente le grandi case di produzione non reggerebbero i costi e non avrebbero lo stesso pubblico. Quindi stiamo facendo dell'Abruzzo un centro internazionale della produzione cinematografica ed è una cosa molto importante perché abbiamo fino ad oggi sofferto invece una superficiale marginalizzazione della nostra regione e dell'attenzione della nostra regione verso il settore cinematografico che invece è un vettore fondamentale dell'economia, della cultura e del turismo.